Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. Andiamo subito in Valdarno dove ci sono state due ore di sciopero questa mattina di fronte ai cancelli della ABB di San Giovanni Valdarno. Vediamo. A fronte di un'annata veramente importante in termini positivi a essere registrata nel 2022 purtroppo nel corso del 2023 questo trend si è invertito e di fatto abbiamo registrato un'emorragia di uscite di posti di lavoro da parte soprattutto dei lavoratori con contratto a scadenza fino ad arrivare ad un annuncio che nel corso da qui al prossimo per quasi tutto il 2024 comunque fino alla seconda metà del 2024 vedrà una progressiva dismissione di tutti i contratti a scadenza. Ovviamente questo era un segnale che non potevamo ignorare. È una situazione che preoccupa lavoratori, sindacati ed istituzioni e che ha portato allo sciopero di questa mattina di fronte ai cancelli della ABB di San Giovanni Valdarno. La richiesta è quella di utilizzare gli ammortizzatori sociali per una crisi definita temporanea alla quale però per adesso l'azienda ha risposto picche. Siccome per noi la crisi se così è temporanea come ci hanno detto e quindi sarà poi legata il prossimo anno ad una ripresa degli ordinativi la cosa per noi più logica era quella di aprire un ammortizzatore sociale e quindi utilizzare una cassa integrazione. L'azienda su questo ha dato una chiusura totale quindi non ha scelto di accedere agli ammortizzatori sociali per gestire gli esuberi che in questo momento ci sono in prospettiva anche che dovesse ripartire gli ordini ma continua a ribadire che rescederà tutti i contratti in somministrazione. Lo stabilimento di San Giovanni con il più grande impianto di stazioni di ricarica in corrente continuata era stato inaugurato nel giugno 2022. Adesso 130 i posti di lavoro interenali a rischio ai quali si aggiunge un'eventuale riduzione del 15% dei 400 dipendenti assunti. Quello che chiediamo noi con questo shop è riaprire un tavolo nel quale facciamo un percorso insieme per reinserire le persone e passare insieme questo momento di crisi. Un'avvertenza che proderà anche in Regione con una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Vigilanza e solidarietà espressa anche dall'amministrazione comunale. Naturalmente continuerò a monitorare in prima persona la situazione, l'evolversi della situazione perché ripeto ABB su San Giovanni è un'impresa strategica ma naturalmente deve garantire l'occupabilità e soprattutto deve garantire l'occupazione dei lavoratori. Incidente stradale questo pomeriggio lungo la E78. Lo schianto si è verificato nei pressi di Molin Nuovo lungo la corsia che da Sansepolcro raggiunge Arezzo. Un'auto avrebbe perso il controllo e sarebbe finita contro una delle barriere della carreggiata. A rimanere ferita una donna che guidava l'auto. Sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Arezzo che hanno provveduto a trasferire la ferita al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Chiusa per qualche ora la carreggiata in direzione di Arezzo. E torniamo in città al via il cantiere di via Fiorentina. Sono iniziati questa mattina i lavori per la sistemazione dei sottoservizi con la chiusura di entrambe le direzioni della strada. Chiara Sadotti Si è risvegliato nel bel mezzo di una chiusura totale lo spicchio di città che va dall'Orciolaia al semaforo di via Fiorentina. Interessato dai lavori per la nuova rotatoria diventando di fatto una strada senza uscita. Anche se probabilmente lo resterà solo per qualche giorno il tempo di allestire il cantiere. Questa mattina infatti hanno preso avvio i lavori che interessano la sistemazione dei sottoservizi in vista della realizzazione della rotatoria. Ieri c'era stato anche un sopralluogo dell'assessore alle opere strategiche del comune di Arezzo Marco Sacchetti per cercare soluzioni per minimizzare l'impatto. C'è stata un'apertura da parte ovviamente dei vari soggetti responsabili di valutare se diciamo organizzare i cantieri su fasi perché ci sono più fasi lavorative e quindi in determinati fasi, la fase anche iniziale, di lasciare comunque aperta una corsia di via Fiorentina in uscita. Mentre la corsia in ingresso verrà ovviamente chiusa per cantierare perché c'è necessità appunto di stoccare materiali, mezzi e così via. C'è da garantire la sicurezza di chi lavora, la sicurezza di chi transita sia in macchina che a piedi. Quindi ovviamente la complessità c'è, dei piccoli disagi sicuramente ci saranno, bisogna cercare di minimizzarli. Quindi l'invito che io ho rivolto a tutti è di cercare di essere veloci, di lavorare in sicurezza ma velocemente anche su più turni di lavoro in modo tale da cercare di ridurre questi tempi dell'ordinanza che è un mese. L'amministrazione comunale fa comunque sapere che l'obiettivo resta ancora quello di ripristinare il prima possibile il varco in uscita. E Confesercenti continua ad essere critica sul cantiere di via Fiorentina e parla di promesse non mantenute. Unica certezza è che la strada da questa mattina è bloccata e che le attività della zona sono isolate con un conseguente danno economico. Adesso serve prevedere un ristoro per i commercianti che subiranno inevitabilmente il calo del fatturato. I lavori non possono gravare sulle entrate delle aziende. È la posizione di Confesercenti che tramite la direttrice Valeria Alvisi continua a sollecitare l'amministrazione al fine di trovare soluzioni in grado di non danneggiare le attività economiche di via Fiorentina e via Marco Peregno penalizzate dal cantiere allestito in strada da questa mattina. Nel frattempo l'associazione chiede di accelerare i tempi e ricorda che il rinvio del cantiere ad un periodo lontano dalle festività sarebbe stata la scelta migliore per le attività commerciali dell'asse di via Fiorentina e via Marco Peregno. E c'è il tempo in peggioramento in questi giorni per una perturbazione che interesserà gran parte della Toscana fino al fine settimana. La sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore che dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 ottobre, si protrarrà fino alle 14 di domani, giovedì 19, interessando la Toscana nord-occidentale sia a costa che aria interne e anche il Valdarno inferiore. Le precipitazioni sono previste già a partire da oggi e si intensificheranno a partire dalle zone di nord-ovest in serata con ulteriore peggioramento nella prima parte di giovedì. Analoghi fenomeni con una criticità di colore giallo interesseranno nella giornata di domani il Valdarno superiore, il Casentino, il Mugello, la Romagna toscana, la Val Bisenzio, l'Alto Ombrone, Grossetano e parte della costa etrusca. E adesso parliamo di pace e di Medio Oriente. Anche la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro si è unita alla preghiera delle chiese di Terra Santa e alla giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza. Vediamo. Lo scenario che si è aperto in Terra Santa e che ci ha sorpreso è uno scenario davvero sconvolgente per l'atrocità di quello che è stato compiuto in questo attacco, dei tanti morti che ci sono e quindi è un richiamo forte davvero a costruire una casa di pace e di giustizia. Anche la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro ha aderito alla giornata di digiuno e preghiera per la pace indetta dai vescovi cattolici della Terra Santa e della Chiesa Italiana. Il messaggio è quello che anche il Cardinale Zuppi ha sottolineato in questi giorni, anche Papa Francesco, cioè che noi usiamo, viviamo la preghiera come risposta alla guerra e la preghiera è riconoscere la forza di Dio che è forza e dono di pace e invito a vivere tra tutti gli uomini la fraternità che nasce dalla giustizia, dal perdono, dalla ricerca di strade di dialogo e di incontro. Quindi ecco, la preghiera vuole essere una invocazione a Dio perché ci sostenga nella ricerca e nella costruzione della pace. La diocesi aretina ha così rinsaldato il suo speciale legame di comunione con la Chiesa di Gerusalemme, sancito nel gemellaggio siglato il 25 settembre 2010. Ad Arezzo un momento di raccoglimento con il rosario di fronte alla Madonna del Conforto. È nella cattedrale che è la Chiesa Madre della Diocesi, luogo e segno di unità di tutta la nostra chiesa e nella cappella della Madonna del Conforto anche perché reciteremo il rosario e quindi ci affidiamo anche alla sua intercessione per invocare il dono della pace. E c'è un messaggio di pace che arriva anche da Rondine. Il servizio. Rondine è una realtà piccola, però siamo saldamente ancorati a quest'idea che l'umano non è più umano se si lascia prendere dall'odio. Con l'odio nasce ogni cosa peggiore. Non poteva che arrivare un messaggio di pace da Rondine, la cittadella sull'Arno alle porte di Arezzo alla quale Liliana Segre ha lasciato l'eredità della sua ultima testimonianza pubblica e dove israeliani e palestinesi hanno scelto di convivere mettendo in comune il dolore e provando a trasformarlo in opportunità. Noi abbiamo circa 8 studenti che vengono da questi luoghi e altri 40 che sono passati da Rondine e stanno vivendo questo tormento sia in Israele che in Palestina. Il clima è lacerato, profondamente dolente. Qui vivono tutta l'angoscia insieme agli altri amici che vengono dagli altri luoghi di guerra. Però c'è la speranza perché questi giovani meravigliosi e coraggiosi non si arrendono alla logica dell'odio. Tengono botta, come si dice, tengono la relazione. Capiscono che dall'altra parte non c'è un nemico ma c'è un uomo, c'è una persona, c'è una donna, ci sono persone dolenti. E questo raccontarsi il dolore e condividerlo genera la speranza perché capiscono che lasciarsi prendere dall'odio porta solo altra distruzione. E proprio a Rondine il Vescovo Andrea Migliavac ha portato 200 giovani di fronte ai ragazzi dello studentato. Un incontro dopo la giornata mondiale della gioventù ma anche una carezza a chi dall'arno segue la guerra di casa sua. E siamo qui come giovani insieme ad altri giovani che vengono da altri paesi del mondo e dai luoghi di guerra per dire che noi crediamo nella fraternità e che noi vogliamo costruire un mondo di pace, che noi come giovani chiediamo la pace. E voi, giovani, dovete gridarlo. Rondine, dove noi siamo oggi, ci dice che è possibile, che è una utopia possibile, che un mondo di pace si può costruire cominciando a vivere in pace noi, noi con tutti quelli che abbiamo accanto a noi nella vita e anche cercando altri per fare e per vivere la pace. Intanto il consigliere comunale Aretino Romizzi ha annunciato che chiederà nel Consiglio Comunale di domani che si rispetti un minuto di silenzio per tutte le vittime dell'ennesima guerra del Medio Oriente nell'auspicio che gli attacchi a Gaza lasciano immediatamente spazio ad un cessate il fuoco. E cambiamo argomento. La ASL Toscana Sud-Est Informa, che è stato proclamato da numerose sigle sindacali per venerdì 20 ottobre, uno sciopero generale di tutto il personale. In relazione all'adesione degli operatori potrebbero verificarsi variazioni al normale svolgimento dei servizi al pubblico. L'azienda si scusa per eventuali disagi e ricorda che restano garantiti i servizi essenziali e di emergenza urgenza. E adesso andiamo a Cortona dove domani si apre il Festival della Scienza Cautamente. Tre giorni, 30 ospiti, libri ad un euro e porte aperte nei laboratori delle scuole. È tutto pronto per la nuova edizione del Festival della Scienza Cautamente. Per noi è importantissimo anche riunire i ragazzi e il mondo della cultura anche attraverso i social. Infatti questo festival sarà proprio incentrato sul rapporto tra giovani, cultura e anche il mezzo social sarà centrale per tutta la durata del festival. La manifestazione si svolgerà al Centro Convegni Sant'Agostino a partire da giovedì 19 ottobre con la partecipazione di scrittori, scienziati, ricercatori e creatori di contenuti digitali. Ci si immerge sul tema della scienza e della ricerca e soprattutto su un principio che la scienza è conoscenza e la conoscenza è il rapporto fra le persone, fra le culture, fra i metodi. Si incentrerà moltissimo sul metodo scientifico. Il principio è il seguente, non credete a niente che non sia dimostrato. Quest'anno abbiamo anche l'onore di concedere finalmente la cittadinanza onoraria con tanto di cerimonia venerdì 20 alle ore 15 al professor Silvio Garattini che ha dato lustro al nostro territorio a Cortona che è venuto peraltro spesso a Cortona a fare meeting, conferenze e dibattiti e che quindi ha portato il nome di Cortona nel mondo. Parteciperanno anche quattro istituti di istruzione superiore della Valdichiana. Nel giorno d'apertura saranno loro i protagonisti, collaboratori ed incontri che permetteranno di conoscere l'offerta didattica e organizzare esperienze per gli studenti delle scuole primarie di secondo grado. Questo deve essere un'occasione per stimolare i giovani verso la scienza, la ricerca, la conoscenza e credo che il programma presentato possa davvero mostrare tutto il dinamismo, la volontà, la voglia di conoscere. Nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 ottobre infine sarà possibile acquistare libri ed un euro così da sostenere la Fondazione Meyer di Firenze. L'orchestra multietnica di Arezzo porta la musica nelle scuole con Sarabanda, un progetto di officine della cultura in collaborazione con gli istituti scolastici della città. Vediamo. L'orchestra multietnica di Arezzo nelle scuole aretine con il progetto Sarabanda. Iniziando dai bambini piccoli della scuola primaria fino appunto al liceo musicale cercando di portare attraverso il linguaggio della musica il valore della differenza culturale che è un po' il messaggio dell'orchestra multietnica di Arezzo. Sono appena partiti dall'Istituto Comprensivo Cesalpino e dalla scuola primaria Montebianco dell'Istituto Comprensivo Vasari i laboratori musicali interculturali e le lezioni concerto. È stata un'occasione per incontrare, per vedere strumenti provenienti da tutto il mondo, per conoscere anche ritmi e musiche provenienti appunto da culture diverse. È un'occasione di arricchimento importante proprio per la crescita dei nostri bambini. Suonare insieme all'orchestra multietnica sarà una grande esperienza e la musica poi lo sappiamo è un linguaggio universale. Il progetto Sarabanda è risultato tra i beneficiari del Bando del Comune di Arezzo dedicato alla realizzazione di progetti a favore dell'integrazione dei cittadini stranieri. Quando scapita un progetto come questo che riesce a mettere invece in luce gli aspetti positivi della diversità culturale, li sposiamo in pieno perché sembrano pensati per noi. I laboratori e le lezioni concerto si concluderanno prima di Natale. Saranno dunque mesi preziosi per l'orchestra multietnica e i suoi musicisti chiamati a parlare di intercultura e condivisione di storie di vita guidate dalla musica. Le culture diverse sono non un problema ma una ricchezza per tutti noi. Quindi andare dai bambini, dai più piccoli, a far conoscere canzoni che vengono da diverse parti del mondo, a far conoscere strumenti musicali diversi, renderli partecipi facendo loro stessi suonare queste melodie. Penso che sia un modo interessante per passare questo messaggio della convivenza e del rispetto reciproco. E adesso passiamo alla pagina sportiva, occupiamoci di calcio. Presentate questa mattina due nuove figure per il settore giovanine del calcio di Arezzo. Si tratta di Paolo Bertini e di Mikhail Varutti. Varutti oggi non presente a causa del corso che sta ultimando a Coverciano. si occuperà della gestione amministrativa e organizzativa del settore giovanile. Bertini invece sarà il nuovo direttore generale del settore giovanile. Le parole del neodirettore sono subito cariche di affetto per l'Arezzo e soprattutto per il calcio di Serie C. Investire nel settore giovanile è un obiettivo, è una provincia florida di giovani giocatori, sottolinea Bertini. Durante la conferenza stampa di questa mattina, inoltre, l'amministratore delegato Sabatino Selvaggio ha annunciato che la società ha estinto il debito. Nello specifico si tratta dei debiti sportivi della vecchia società per circa un milione di euro. In questo fine settimana sono stati estinti definitivamente. I pagadenti sono stati eseguiti tra venerdì e lunedì e sono stati già programmati. Quindi, saldato il debito sportivo della vecchia Wester Ezzo, saldato il contenzioso perso nei confronti dell'Inps riguardante le trasferte del 2017 e chiuso il piano di rateizzazione del Covid. Sabatino fa notare quanto era importante farlo e di come questo sia un elemento fondamentale per la solidità e la stabilità della società. E adesso parliamo della ginnastica ritmica perché Linda Fiorucci della ginnastica Petrarca è campionessa toscana di ginnastica ritmica. La giovane atleta petrarchina, nata nel 2013, è scesa in pedana Terra Nuova Bracciolini nella seconda tappa del campionato regionale allieve Gold dove ha gareggiato nella categoria allieve seconda fascia in un programma completo di esercizi tra corpo libero, fune e cerchio. I punteggi delle tre singole esibizioni sono valsi il terzo posto di giornata ma la classifica generale del campionato, frutto dei risultati di tutte le prove, ha visto Fiorucci assestarsi al primo posto e meritare così la grande gioia della vittoria del titolo. Questo piazzamento è valso l'accesso nel ristretto novero di ginnaste qualificate per la zona tecnica interregionale che sarà in programma sabato 4 e domenica 5 novembre nell'abruzzese Alba Adriatica e decretterà le finaliste dei successivi campionati italiani. L'accesso alla seconda fase è stato raggiunto anche da Caterina Falomi che si è piazzata ottava tra le allieve di terza fascia e da Giulia Aritti che ha chiuso invece per nona per le allieve di quarta fascia. E con questo è davvero tutto per la nostra informazione, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci